Tra Cus Palermo e Casteldaccia nessuna delle due può permettersi errori. Da una parte c'è la formazione Cussina di Mister Zappavigna, in ottima forma e in grado per il momento di avvicinarsi alle rivali per evitare la retrocessione in promozione. Dall'altra parte c'è invece una squadra in grande difficoltà di gioco e di risultati. Oltre che in difetto con la fortuna, le due squadre prima di sfidarsi al centro sportivo Santo Canale di Palermo ricordano e tributano un minuto di silenzio alle vittime della tragedia di Cutro. Poi si passa al racconto della partita con il Cus che ha la prima occasione. Fofanà lancia nello spazio il compagno di reparto spatole il quale prova a sfuggire sulla destra. Arriva in area di rigore, prova ad incrociare con il destro. Trova però il piede di Marra sul primo palo a salvare, a mettere in calcio d'angolo. La prima risposta da parte del Casteldaccio è questo calcio di punizione che trova la sponda aerea di Stassi. Poi di Giovanni, nel modo di anticipare tutti per poco, non commette autogol. Calcio d'angolo poco dopo per la squadra di Mister Mineo con Prestigio Giacomo che cerca di attaccare il primo palo, non riesce però a individuare la porta. Cus un po' in difficoltà e subito punito. Il disimpegno qui è errato da parte della retroguardia in completo rosso, poi viene steso. Fabrizio Monti al centro dell'area di rigore, rigore conquistato dall'ex di turno. Dal dischetto si presenta il capitano del Casteldaccio, Andrea Megna, che spiazza di salvo, autore del fallo da rigore. E allora passa in vantaggio a metà della prima frazione il Casteldaccio di Mister Marco Mineo. Poi però cerca di reagire subito il Cus in questa azione di Fofana che calcia con il destro, non inquadra lo specchio della porta. Ma sono primi cenni di reazione da parte della formazione di casa che è qui con un sceriffio. Stamina il panico in aria, viene steso il fantasista e calcio di rigore in favore del Cus Palermo. Un rigore per parte tra le due squadre. Dal dischetto arriva la trasformazione vincente da parte di Mustacciolo, che porta sul pareggio la squadra di Zappavigna. Ancora in gol Mustacciolo, che dunque si gode un ottimo momento di forma e anche dal punto di vista realizzativo. Poi le due squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1. E si riprende con le nostre immagini, con il secondo tempo dal centro sportivo Santo Canale e con il Cus, che qui perde un brutto pallone in uscita. E allora c'è l'opportunità per la conclusione, che si perde però fuori ad un passo dal gol del nuovo vantaggio. La squadra di Mineo, che poi attacca con Selvaggio sul lato sinistro. Selvaggio prende il centro, va addirittura alla conclusione. Si perde sopra la traversa, cerca di attaccare ancora il Casteldaccia con questa giocata sulla destra. Stassi col tapin vincente, ma è tutto inutile per il direttore di gara. E fuori gioco dell'attaccante del Casteldaccia. E poi occhio a questo calcio di punizione battuto da Mustacciolo con la palla che arriva in area. Dove c'è Scozzari, che può controllare sul secondo palo. La palla è proprio per lui, ma c'è la parata da parte di Marra. Poi, palla che spiova nel cuore dell'area di rigore, ancora con la conclusione di Sheriff. Velenosa, ma vincente da parte di Yusef Sheriff, che dopo aver conquistato il rigore del pareggio, trova il gol del vantaggio, ribalta il risultato al minuto 68. Il Cus Palermo, che è in vantaggio sul Casteldaccia. E poi cerca ancora di attaccare. Qui la palla giocata ancora da Sheriff. In profondità per Fafana, che si presenta a Tubertù con Marra, bravissimo, a coprirgli lo specchio e a mettere fuori il pallone. Poi dall'altra parte attacca ancora il Casteldaccia con Selvaggia, che mette in movimento schiavo. Il cross, che diventa un tiro. E spiova pericolosamente vicino alla porta. Difesa da Di Salvo. Poi su questo disimpegno da parte di Marra. La palla finisce dalle parti di Sheriff, che cerca di mettere in movimento Kubi. Appena entrato dalla panchina, Kubi messo giù, direttore di gara che non ha dubbi, concede ancora un rigore. Il terzo della gara, il secondo per il Cus, trasformato da Scozzari, che esulta in maniera liberatoria. Un gol pesantissimo questo per la squadra di Mister Zappagnigna, che di fatto chiude la partita. Cinque dalla fine. Infatti, dopo questo calcio di rigore, non ci sarà più spazio per altre occasioni da gol. Altra vittoria di un peso specifico enorme per il Cus Palermo, che allunga la striscia positiva, si avvicina addirittura alla zona salvezza. Cade e continua il momento no del Casteldaccia. Da Sportisili è tutto. Alla prossima.